Salve a tutti ragazzi e bentornati a Ciccio Savo e Damagreen Continuiamo con King's Quest il nostro terzo episodio Ci hanno rubato il ponte Ci hanno rubato il ponte e quindi troviamo una soluzione Un alveare Un alveare? Un alveare E qui c'è... C'è un mezzo percorso Un mezzo percorso manca il pezzo in mezzo Che potrebbe essere un albero Che potrebbe essere un albero, sì Però la corrente va da su verso giù Quindi se è sta su Ok, 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 ok Tu dici un albero che si incaglia fra i cosi Esatto Perfetto Proviamo a batterne uno che sta... Come help me Bees Abbiamo preso le api Puoi prendere le api? Ehm... no Allora serve per qualcuno che ci si mette sotto Allora, forse Ok, va bene Andiamo a vedere... Quell'albero là Quello... Quello grosso E ma non mi ci fanno entrare Ok Abbiamo riascoltato il dialogo con la guardia E il caro Mogrin è arrivato all'assoluzione Dobbiamo trovarci nella situazione di pericolo Sì Così che le guardie vengano a soccorrerci Lo vedi? È pericoloso Buttiamoci Siamo in pericolo Aiuti No Sofferenza Lasciate la posizione Preso Olè Grazie Perfetto Adesso usa le api Oh oh Scaffamo Peace Bene Via Andiamo Bene, non ci sono più le guardie a romperci le scatole Adesso possiamo interagire con i cavalieri partecipanti al torneo Olè Proviamo a spingere questo Vai A spingere? Vai Vabbè penso che questo non si può manco tagliare Dove prova Vai Addirittura Taglia Eh Ah ecco Forse ci pensa lui Eh Salve Salve Levite Così Madonna Così Così Proprio Grazie caro Che è? Che c'è? Cadi fratello Cadi Ma penso che no Non è un po' troppo pesante Vabbè possiamo andare tutti adesso no? Ciao Over here buddy Dai Pezzo di me Che bastardo Però Però intanto ha fatto cade il tronco e noi possiamo passare da qua Bastardo Bastardo Ti odio già ciccione Eh Abbiamo la cume Vai Siamo arrivati Siamo arrivati E quindi Ma sarai un pezzo di culo No E guardalo Fa pure la posa Bastardo E noi così E comunque l'unico che ancora non si è espresso è stato il cavaliere quello con l'arco Quello con l'arco E' l'unico che ancora non si è espresso No non è un tipo a cui piace parlare molto Che bastardo Va bene Avevamo trovato due soluzioni Che però purtroppo ci hanno fregato male Quindi dobbiamo Provare di nuovo un'altra tecnica Un'altra Intanto le guardie che hanno il loro affare con le api Prendono le api a spadate A spadate come se Potessero così risolvere il problema ma Proviamo a parlare qua a ciacca adesso Scusi signora a ciacca Ho capito A ciacca non ci parla E il tizio non Ok allora proviamo a prendere quella corda Vediamo un po' Ah ecco A ciacca Oh finalmente Bravissimo Batta Indiana Jones Eh uno che finalmente ha dimostrato di essere un cavaliere come se deve Se la taglia adesso sei un pezzo di culo No Ma come? Ah forse Ah ok Ci vuole mettere alla prova Non ce la facciamo Ma come? Niente Che era questo? Che era questo? Pirupi? Siamo andando avanti con la Nella tirama Con la tarama Ok Eh parliamo con lui Il pennacchio tutto Vabbè torniamo giù allora Vediamo un po' giù che cosa c'è Ah provo a usare Lascia Lascia su questo Sul tro Ah ok Sulla radice O qua Vediamo un po' E cretini Ancora con le avi Sanno a giocare a questi Stiamo facendo qualcosa Stiamo facendo qualcosa Ok quindi è giusto Ah beh vedi Abbiamo fatto La cosa Quindi facciamo la zatter adesso E certo Usa la gorda E certo Perfetto Oh mo però Ma tanto come minimo Ce la ruba il nano Guarda eh No ma rabbio Ma rabbio vero Vero Cioè ne abbiamo trovati Tre dei modi per passare Manco uno Vai Namo Rema Rema Col cappello Dai il nano Dove sta? E' sparito Ma che cazzo Gesù Lo sapevo che Gesù Vedi Dicevano che Gesù Era più basso Ma no Ma ci stanno le rocce basse C'erano le rocce bassissime Graham Graeme Right Yes Um How did you know my name? Well you'd be surprised At the information people give out When they're too busy Thinking about their own agenda I also observed That without you No one could have made it across Well done Graham Uh Thanks I guess They'll never acknowledge it You know Those who use their minds Over their biceps Are never woven Into the tapestries of time I can tell you're like me A creative thinker, an intellectual. To win this competition, you'll need to prove that your talents are more powerful than their strength, agility, and speed. You'll also need a friend. I could really use a friend. They call me Manny. Pleased to meet you. So, friend, what's your favorite color? Do you like popcorn flavored jelly beans? Because I do. What's your availability for sleepovers? Are we in a secret club? Green. I prefer pizza flavored. I'm free on Wednesdays and Saturdays, and I would say more of a secret alliance. Alliance? This competition will not be easy, and Daventry needs men like us. If we put our heads together, we might have a shot. What's the plan? If you win, put a good word in for me with the king. And if I win, I'll do the same. Soon, we'll both be moving up the ranks in the castle together. Perché me buzza, vero? Vabbè, perché... Un po' tutti. Guarda come sale. Guarda come è salito. Prego, possiamo farlo anche lui. Fammi sapere come ti posso aiutare. Innanzitutto, fammi fare la stessa cosa anche a me. Non possiamo. Non ce la fa. Va bene. Green non sa fare un cat. Ok. Possiamo partecipare al torneo. Finalmente. Yeah. Abbiamo fatto passa a tutti, praticamente. Vai. Andiamo. Siamo noi i veri eroi qua. Eh. Ma io non lo so, guarda. Sappiatelo. Andiamo dentro. Via. Eccoci. Nice audition. Tuesday, today. Now that we have recovered our list, it is my duty to inform you that you are officially signed in. Cioè. Ecco, scusati, scusiti. Very, very terribly sorry, but we've run out of commemorative tote bags. That's not a problem. I have no use for tote bags. My mother designed my cape with lots of pockets. Is the next event about to start? Not so fast, pocket boy. The tournament bylaws explicitly state that each contestant must complete every event before continuing on in the competition. Since you were late, you missed the test of chivalry and the welcoming parade. Both designed as lighthearted warm-ups and getting to know you type exercises. You know. An icebreaker before we start in on the usual death, destruction and duels of a cutthroat nature. Don't forget about our men and serventie, you don't forget to go to that. We're going to go to that. We're going to go to that. Thank you. In the spirit of equal opportunity, the new rule state that you can schedule a make-up chivalry test if and only if the circumstances for your absence were extenuating. So, I will ask you, what were your extenuating circumstances that made you late for the tournament? Mia mamma non mi ha lasciato partire prima di finire la colazione. Non avevo sentito che avessero modificato la data. Vai. Qua non è che voglio modificare. Non ho mai sentito che il date si è cambiato. I'll just pencil in hard of hearing. Certo, ovviamente. Bene, la prova di cavalleria consiste nel rispondere a un questionario, proprio un vero questionario che dice sì o no, evidenzia diverse risposte, sul conto di cavaliari. Quindi dobbiamo scoprire più informazioni possibili di tutti i partecipanti. Ciao, sono Graham. Modesto, poi tra l'altro, eh. So, cavaliere viola che ti ho detto che si chiama in un modo. Ok, ci ha detto solo il nome, non ci può parlare, quindi diciamo a lui del nome. Abbiamo raccolto più informazioni possibili, adesso siamo pronti per fare il nostro test della cavalleria. Siamo pronti? Assolutamente sì. Facciamolo. Facciamolo. Chi è l'unica knight che competisce nel tournament che parla moltissime lingue? Attenzione. Manny. Assolutamente. Anche perché Acciaka ne parla una. Ghianda pure e sussurro pure. Manny. Manny. Siamo amici, sai. Abbiamo un'allianza. Sì, prossima. Allora, prossima. Questa knight hopeful hailsa da un paio di fuori da Daventry. Based on the odds, he is favor to win the competition. Acciaka. Tutti i cavalieri... Viene da una terra lontana, quindi potrebbe essere Acciaka, dato che... E poi tutti i cavalieri, che ti hai detto prima, che tremavano di fronte a lui. Dì, tremavano di fronte. Sì, pure Acciaka. Acciaka. Moving on. What is the full name of the fastest contestant in the competition? Sir... Urberto Salsone, quello. Sremondo. Walter Harris, Ignatius, Sally Percival, Edoardo Ramon Jr, III. Edoardo Ramon Jr. Sì, sì. Last question. Who or what is the favorite companion of the strongest competitors? Lo scogliattolino. Lo scogliattolino. Principessa Madeline di Avalon. She sounds quite charming. Ok, let's see here. Tallying. Correttamente A. Tutto, le prego. A tutte. It looks like you got all the answers. Spore. Spore. Great job, Pockets. Now we shouldn't pick on your friends. Pockets, perché ci chiamano Pockets? Tasche, perché io avevo detto quella cosa del mantello. Ho capito. Salve. We're all here to win a knight position on King Edward's court. But that's not all. As you all know, tragically, the king has no airs. Tragicamente. Mmh. This position could very well lead to the cloud of Devontry itself. Attenzione, incredibile. Now, let's officially commence the competition part of the tournament. Vai, va bene. Viareti. I love you all made friends. Because it's about to get nasty. The time has come to collect your entrance tickets. Merda, lancio abbiamo il biglietto. Bring back to the theater. Tam 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 tam. One eye of a hideous beast. And it's just a proclamation 174A. Oh, capai. Oh, capai. Dobbiamo avere un occhio di una bestia mostrosa, secondo l'emendamento 1-7-4-8-8-2-pro-madre. Cute, fuzzy or tiny creature eyes will be quinta. Potremmo effettivamente staccarlo anche... Nothing to see. Hahaha. Ok. We urge you to take this opportunity to show us your skills. We want to know what's in your heart, how you think and how you react in the face of Devontry. Va bene. Benissimo, ci sto. Ci sto. All that can be interpreted from one eye. But we will still judge you all the same. È un bombero, è un bombero Whisper. Go forth and claim thine eyes. Una missione a quanto facile? Trovare un occhio mostruoso. Aspetta, ma io non sto a ricollegare più o meno tutto quanto adesso. Aiuto. L'occhio del drago. Aiuto. Eh già. Aiuto. L'occhio del drago, no. Per favore. Va bene, signori. Ci diamo appuntamento al prossimo video. Perché se no facciamo i video di mezz'ora, 40 minuti. Ricordatevi ragazzi, se il video vi è piaciuto, di lasciare un like, commentate, condividete e iscrivetevi al canale. Passate anche sulla pagina di Facebook. Diamo Ogreen. Daci ciao, ciao. E tutto quanto. Ciao cari. Ciao cari. Ciao cari. Ciao cari. Ciao cari.